Porti. Dove abiti? Alle casermette. Così lontano. Poverina. Chissà che brutto posto. Sai cosa faccio? Metto a tua disposizione una mia camera. Vuoi? O c'è qualcuno che ti aspetta? No, no, via tranquillo. Nessuno sarà in vena per me. Ti troverai bene qui. Avanti, son. Avanti. Quanti anni hai? Ne ho 19. Allora qualcuno dovrà firmare per te. Ma io non ho nessuno. Ah, male, male, male. Ma non preoccuparti. Il successo gli dà alla testa. Mi sei riuscito con quella là? Di chi parli, cara? Va là che lo sai benissimo, Pialdi. Tutto quello che voglio, ottengo. Anche me? E perché no? Ma io costo cara. Mai troppo per me. Mi hai preso per guadagnare soldi, non per spendermi. Il numero 24 ritorna in gara. Bene, benissimo. Resista, signorina. Siamo solo alle prime ore. E il pubblico lega sui ballerini. Li incoraggi. Offra dei premi. Per una samba, al numero 24. Bene, Sirin. Ci è stata assicurata la visita di importanti... Hai male al cuore? Anch'io male al cuore. Mi sono innamorata. Mi piace Manuel, quello che balla con Alda. Che simpatico. Ehi, Manuel. Ciao, Farnvi. Il numero 18 entra con tre minuti di ritardo. Dovrà recuperarli al prossimo riposo. Presto, sì. Partono volontarie? Partono contente, sia tranquillo. Sa a lei non scontentarle. Per me questa va bene. Molto bene. No, questa non parte. Rimane qui. Beccato. Non combinare altri guai. Con me non si scherza. Ricordati. Mi dia un po' di soldi, ho tanto bisogno di soldi. E non te ne abbiamo dati abbastanza, forse? Più di quanto ti spettava. Chi ha pagato l'ospedale? È stata una pazzia venire qui nel vostro Stato. Tieni, fumava. Grazie. Quello scocciatore doveva telefonare proprio a quest'ora. Chi era? Quel Macaddy. Quello della maratona? Sì. Che tipo è? Un bel tipo. Ha scoperto solo adesso che gli piaccio. Mi vuole, mi desidera. Devo farlo crepare, capisci? Crepare. Mi fa schifo. Tu ci sai fare con gli uomini. Caschi bene. Lo vedi come sono finita? Sei sempre allegra, elegante. Ma a qualcosa Macaddy serve. Dì, sei mai stata innamorata? Io? Sì, una volta. Tanto tempo fa. E Macaddy? Ha detto che ci raggiunge tra poco con la macchina. Ci sono tutte le ragazze? No, Fanny se l'è squagliata, si sarà sbronzata. Ho cercato dappertutto. Se la trovo l'ammazzo di botte. Prendo la sua macchina. Vai, vai.